buongiorno stamattina è arrivata frutta e verdura da i fruit è un app con sede a catanzaro ho fatto l'ordine ieri e oggi che è domenica in meno di 24 ore è arrivato adesso vi mostro cosa acquistato tutto l'ordine è venuto 26 euro sono quasi tutti i 2 kg 2 kg di zucchine 2 kg di kiwi melanzane abbiamo prezzemolo e banane qui le mele pomodori e finocchi qui abbiamo la lattuga rossa la cicoria il sedano e le zucchine scaricatevi l'app i fruit pagamento alla consegna o con pay pallo nessun costo di spedizione